Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi torno a parlarvi della rubrica delle età dei personaggi, e cioè della rubrica dedicata appunto all'età dei personaggi più iconici di Star Wars attraverso tutte le opere in cui compaiono. In particolare oggi mi occuperò di un personaggio amatissimo del franchise, e cioè di Obi-Wan Kenobi, un personaggio iconico che presenta davvero tantissime curiosità sulla sua età e soprattutto che è stato oggetto ed è ancora oggetto da tanti anni di una satira particolare in merito alla sua anagrafica e soprattutto al suo aspetto negli anni. Ma anche su questa questione vi presenterò tantissime chicche molto interessanti, il tutto ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono abbonati al canale e se non l'avete ancora fatto e volete sostenermi anche in questo modo, in descrizione trovate un link utile con tutte le informazioni. Ma cominciamo ora il nostro viaggio anagrafico attraverso le età di Obi-Wan Kenobi e come sempre, come ormai saprete, se seguite il canale, soprattutto se seguite questa rubrica, dobbiamo partire dai fondamenti e cioè dall'anno di nascita. Di recente la guida canonica Timelines, che vi consiglio vivamente di acquistare, ci ha confermato che la data di nascita canonica di Obi-Wan è il 57 BBY, e cioè 57 anni prima rispetto alla battaglia di Yavin. Un dato che conoscevamo in realtà già da altre opere e che soprattutto ci permette già di capire tanto in merito alla sua età. In particolare Obi-Wan è nato sul pianeta Stujon, per essere poi trasferito da piccolo, come moltissimi altri bambini sensibili alla forza, al Tempio Jedi su Coruscant. E veniamo ora a quelle che sono le opere che lo vedono protagonista. Come saprete all'interno di questa rubrica ho quasi sempre approfondito solo l'età dei personaggi durante i prodotti live action, e quindi film e serie tv. Ma per quanto riguarda Obi-Wan voglio fare un'eccezione. Un'eccezione che riguarda un suo incontro molto importante, con un personaggio che sarà vitale per la sua crescita e soprattutto per la prima parte della sua vita, e cioè la duchessa Satine Kryze. Come sappiamo da The Clone Wars infatti, Obi-Wan e Satine si conoscevano da tanto tempo, e soprattutto si erano amati in giovinezza. E questo lo sappiamo appunto sia tramite la serie animata e sia tramite altre opere cartacee. E sappiamo soprattutto che Obi-Wan aveva passato un anno su Mandalore insieme a Satine e insieme al suo maestro Qui-Gon Jinn, che erano stati mandati lì in missione proprio per proteggere la duchessa, in un periodo che va dal 41 BBY al 39 BBY circa, e che ci permette di affermare che Obi-Wan aveva tra i 16 e i 17 anni più o meno, e che quindi loro era stato ovviamente un intenso amore adolescenziale. Dopo questa piccola e doverosa precisazione passiamo agli eventi della trilogia prequel, in particolare ad episodio 1, che è ambientato nel 32 BBY e che vede un Obi-Wan che è ancora padawan di Qui-Gon Jinn 25enne. Quindi egli aveva 25 anni quando lui e il suo maestro hanno scovato Anakin Skywalker su Tatooine e soprattutto aveva 25 anni quando sconfisse Darth Maul e contemporaneamente come ben sappiamo perse il suo maestro Qui-Gon. In episodio 2 invece passano 10 anni da quegli eventi, siamo infatti nel 22 BBY e Obi-Wan che ormai è diventato il maestro di Anakin Skywalker ha 35 anni. Egli quindi era 35enne allo scoppio delle guerre dei cloni, che dureranno come ben sappiamo tre anni, fino al 19 BBY, anno di ambientazione di episodio 3 La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi aveva invece 38 anni. E si confronta come ben sappiamo con il suo ex allievo Anakin Skywalker attraverso l'importantissimo duello su Mustafar. Un confronto ovviamente super struggente che come ben sappiamo ha acquistato ancora più valore dopo tutte le vicende della serie animata The Clone Wars, dove Obi-Wan è grande protagonista e dove praticamente lo vediamo arrivare dai 35 appunto ai 38 anni. Cronologicamente il prodotto successivo dove vediamo Obi-Wan Kenobi è la serie omonima a lui dedicata, che è ambientata nel 9 ABY, in un periodo in cui il personaggio era praticamente in esilio da 10 anni e quindi aveva 48 anni. È interessante notare che sia nella trilogia prequel e sia soprattutto nella serie live action, l'interprete di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, è anagraficamente perfetto per interpretare il personaggio di Obi-Wan, poiché l'attore è del 1971. Ma anzi va sottolineato che essendo come il vino, Ewan McGregor non dimostrava nemmeno 50 anni, che era appunto la sua età effettiva durante le riprese della serie. Passiamo poi alla seconda serie animata in cui compare il personaggio di Obi-Wan, e cioè Star Wars Rebels. Egli infatti, come ricorderete, è presente all'interno della terza stagione di Rebels, in un episodio fantastico intitolato Solo i Gemelli, e ambientato in particolare nel 2 BBY, cioè due anni prima delle vicende della battaglia di Yavin, quando il personaggio aveva 55 anni. Ed è interessante notare che lo stile grafico, il design con cui è stato proposto Obi-Wan in questa serie si avvicina molto di più a quello del suo storico interprete, serale Guinness. E a questo punto arriviamo proprio alle vicende di Episodio 4, il capostipite di Star Wars e film ambientato nell'anno zero, in cui si svolge la battaglia di Yavin. Perciò viene da sé che in Una Nuova Speranza Obi-Wan aveva 57 anni. E qui ovviamente si concentra tutta la satira riguardante l'età del personaggio, poiché già dalla trilogia prequel, ma soprattutto dopo l'uscita della serie Obi-Wan Kenobi si sono fatti dei confronti fra gli interpreti, e cioè fra Ewan McGregor e serale Guinness, che sembrano avere una distanza anagrafica molto marcata. E la stessa cosa viene portata, come vi dicevo per scherzo, per il personaggio di Obi-Wan Kenobi, sottolineando quanto la sabbia di Tatooine l'avesse fatto invecchiare. Ma in realtà devo svelarvi una chicca che forse farà crollare molte vostre certezze se non lo sapevate. Infatti Ser Alec Guinness non era molto anziano quando interpretò Obi-Wan Kenobi in episodio 4, poiché aveva 63 anni. Anzi 62 anni se contiamo che le riprese di Star Wars si sono svolte nel 76. Questo ci fa capire che anagraficamente Alec Guinness non era molto lontano dall'Obi-Wan Kenobi canonico, e quindi dall'Obi-Wan Kenobi 57enne. Ma ovviamente stiamo parlando di 50 anni fa, e in questi 50 anni molto è cambiato, anche e soprattutto nello stile di vita delle persone, e quindi nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di attori, i sessantenni dell'epoca non possono essere comparati con i sessantenni di oggi, che riescono comunque a mantenere un aspetto più giovanile. Ma tornando al personaggio di Obi-Wan Kenobi, come ben sappiamo, episodio 4 segna anche la data della sua morte, e cioè la data in cui Eli si sacrifica combattendo contro il suo ex allievo, divenuto Darth Vader, per permettere a Luke e Leia di scappare dalla morte nera. Ma se volessimo andare avanti, anche se negli episodi successivi Obi-Wan sarà comunque solamente un fantasma di forza, dobbiamo dire che in episodio 5, che è ambientato tre anni dopo le vicende di episodio 4, Eli avrebbe avuto 60 anni tondi tondi, mentre in episodio 6, che è ambientato un anno dopo le vicende di episodio 5, il personaggio ne avrebbe avuti 61. E in entrambi i casi possiamo vederlo, come vi dicevo, come fantasma di forza. Ma non è finita qui, perché come sappiamo Obi-Wan Kenobi compare anche all'interno della trilogia sequel, anche se solo tramite voce. Sia in episodio 7, durante la visione che Rey ha quando tocca la spada degli Skywalker, e sia in episodio 9, quando sempre la protagonista sente le voci dei Jedi del passato che la spronano a sconfiggere Darth Sidious. Poiché episodio 7 ed episodio 8 sono ambientati nel 34 ABY, in quell'occasione se Obi-Wan fosse stato vivo avrebbe avuto 91 anni. Mentre in episodio 9, che è ambientato un anno dopo, e cioè nel 35 ABY, il personaggio avrebbe avuto 92 anni. Insomma, come potete vedere, dietro l'età dei personaggi si nascondono sempre delle bellissime curiosità e delle splendide chicche. E ovviamente Obi-Wan Kenobi non ha fatto eccezione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate dell'età di Obi-Wan e soprattutto quale prossimo personaggio vorreste vedere in questa rubrica e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!